Ciao bimbi, buongiorno! Allora, oggi parliamo di questo uomo. Lo sapete chi è questo uomo? E secondo te lui è un nonno o un papà o l'oggio? Mmm... Allora, lo scopriamolo insieme. Lui è padre di Gesù, esposo di Maria. Quindi, chi è lui? Lui è come tanti altri padri che dedicano il suo tempo per giocare e ascoltare i propri figli. E' così che l'ho fatto anche il suo figlio Gesù. Lui è capo della famiglia di Nazareth. E' il genitore che custodisce e protegge la famiglia nella difficoltà con la sua presenza e dedizione. Lui è Falegname, un artigiano che lavora il legno o la pietra. Lui è un santo che lo conosciamo come patrone dei padri di famiglia, dei carpentieri, dei moribondi, oltre che tutti i lavoratori. Come altri santi, anche lui ha un giorno speciale dove ci dedichiamo solo per lui. E la sua festa accade proprio in questo mese di marzo. Lo sai quando lo festeggiamo la festa di papà? Se lo sai, vuol dire che lo sai anche quando lo festeggiamo la festa di questo grande santo. Perché lo festeggiamo nello stesso giorno e proprio il 19 marzo. Allora, hai indovinato? Quindi, secondo te, chi è lui? Allora, lui è il nostro San Giuseppe. Per onorare la sua festa, adesso lo quantiamo il suo ino. Per onorare la sua festa, San Giuseppe di tutte le genti, a te sale un grido d'amor, Volgi il sguardo dai cieli splendenti alla Chiesa di Cristo, Signor. San Giuseppe di tutti i nostri amici. 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 San Giuseppe di tutti i nostri amici.